Noi Carlo Massa, Assessore alla Sanità Procida, Procida ha avuto i suoi problemi, mi sembra che la situazione però possa essere considerata in fase di miglioramento. Sì, in effetti è nata una riorganizzazione della Sanità Procida, a partire dall'ospedale, per passare poi al distretto, e quindi a tutti i servizi che i cittadini hanno chiesto in questi anni e continuano a chiedere che purtroppo fino ad oggi non sono stati ascoltati. E allora noi adesso stiamo cercando di dare una riorganizzazione sia per quanto riguarda il servizio di urgenza, emergenza ospedaliera, cioè la famosa Coldenawara di mettere in atto tutte quelle procedure di urgenza nel più breve tempo possibile. Il personale è adeguato al momento all'ospedale oppure siete in carenza di personale? No, no, l'organico è completo anche se per quanto riguarda gli infermieri alcuni sono andati in pensione o alcuni deceduti, per cui queste figure non sono state sostituite. Detto questo c'è la ottima e la buona volontà di tutto il personale a non far capire che c'è questa carenza infermieristica nella struttura per cui sopperiscono alla grande a tutte le carenze e le emergenze che si stanno verificando in questi giorni, specialmente per il periodo estivo che l'isola è super affollata. Quanto riguarda De Luca, ora commissario, ha dato dei segnali importanti per Procida? Al momento no, abbiamo chiesto un incontro di vederlo fisicamente perché oltre a vederlo in tv fino ad oggi non abbiamo avuto questo piacere. Abbiamo chiesto l'incontro di vederlo fisicamente ma l'abbiamo chiesto il giorno dopo che il Tg3 ha dato la notizia che era commissario e fino ad oggi non abbiamo ottenuto nessuna risposta. Va riorganizzato il sistema, non possiamo stare più con gli standard che teneva l'ospedale qualche anno fa. La situazione e le esigenze sono molto cambiate, adesso la Regione, il Presidente ci deve dare ascolto, ci deve dare ascolto non solo ma deve darci delle risposte perché abbiamo bisogno che le risposte siano chiare, siano sub-tane, cioè immediate, non possiamo più aspettare.